Entra in casa e trova un nordafricano in taverna. È successo ad una veronese residente in via Bernini Buri che ieri mattina è stata sorpresa da una presenza indesiderata in casa. Un ladro dal buon tempo si può presumere nel senso che invece di scappare in mancanza di un bottino sostanzioso decide di introdursi all'interno di un'altra abitazione rubando una bicicletta elettrica. Il tutto sotto gli occhi attoniti della signora che tenta di arrestare in vano la folle corsa del malvivente. Le forze dell'ordine però grazie ad una curata descrizione del 27enne fornita dalla donna identifica il giovane in via Campagnola. Il ladro che accompagna un'altra bicicletta non obbedisce all'alta degli agenti. La fuga è rocambolesca. Faccia a faccia con un operatore lo spinge a terra guadagnando qualche secondo. Altri agenti però riescono a fermarlo e lo caricano sull'auto dove comincia il vero show. Prende a testate il plexiglass e minaccia di denuncia agli agenti. Non contento una volta in questura cerca la collutazione con i poliziotti che decidono di metterli in cella di sicurezza. Le accuse a suo carico sono di furto in abitazione, tentato furto e l'arresto in flagranza di reato per esistenza in minaccia pubblico ufficiale.